cari aspettatori e cari ascoltatori siamo probabilmente arrivati all'ultima puntata del nostro percorso alla scoperta della lotta fra Guelfi e Ghibellini ai tempi di Dante Alighieri. Ultima puntata perché nella puntata scorsa se ricorderete abbiamo visto come finiva Campaldino con la vittoria dei Guelfi, con il massacro degli avversari, con la fuga e con una serie di morti eccellenti come per esempio uno dei cavalieri francesi, Guillaume de Dufour, che muore e che verrà seppellito a Firenze e con la morte del Vesuvio Guglielmo di Ghibertini della parte Ghibellina e anche di Buonconte del Monte Feltro che ha una bellissima parte a lui dedicata nel canto quinto del Purgatorio ma per cui se siete interessati vi rimando alla conferenza tenuta alla convention di Sorrento di Casus Belli Sud che tra poco il nostro giannistro nero Mauro Faina pubblicherà sul suo canale YouTube e che potrete quindi andare a sentire lì. La battaglia quindi è finita. Dante si sente sollevato dopo la paura che dichiara in una lettera che non c'è venuta ma che il suo biografo Leonardo Bruni ci conferma che esisteva. Dopo il momento di paura iniziale, dopo i primi scontri, Dante si sente sollevato per il fatto che la battaglia sia finita, che lui sia vivo e che la sua parte abbia vinto. A quel punto però, mentre gli aretini si ritirano velocemente in città per inchiudersi al suo interno, essere protetti dalle sue mura, mi ha appena scritto Paolo Carraro che saluto e che mi dice che non sente nulla. A me risulta che le cuffie e il microfono vadano. Paolo puoi tornare a dirmi qualcosa? E ovviamente se non senti nulla continui a non sentire nulla, tu mi dici. Però il sonoro mi risulta che vada. Paolone puoi dire qualcosa? Provo a risponderti. Paolone? Ciao Diego. Adesso scusate, è il bello e il brutto della diretta. Diego mi dice che si sente, quindi possiamo continuare. Bene, spero che anche Paolo a questo punto senta. Scusate tutti quanti, è il bello e il brutto della diretta, insomma. Però mi piace stare con i nostri ascoltatori del gruppo Facebook di Casus Belli anche durante queste festività. Ecco perché comunque sì, anche se solo da un quarto d'ora, queste piccole pillole cerco di farle in modo indiretta, insomma, per avere comunque un dialogo. Quindi stavamo dicendo, tanti auguri a tutti quanti, a proposito. Avevo detto che sarei tornato buona di Natale, non sono riuscito, quindi tanti auguri, buon Natale in ritardo e adesso ne approfitto già anche per auguri, per serene festività e per un anno 2020 come ce lo meritiamo. Ecco, quindi sereno perché ha bisogno di serenità e chi se la merita, entusiasmante perché ha bisogno di entusiasmarsi e tutto il resto. E torniamo a una persona che appunto era molto entusiasta, che era Dante. Stavo dicendo, dopo la vittoria di Campaldino, gli arettini si ritirano in fuga, i sopravvissuti, verso la città e cercano rifugio al suo interno. Mentre i fiorentini, i guelfi, iniziano a cercare di non prendere il pieno vantaggio della vittoria dirigendosi anche loro su adesso, ma andando avanti a devastare le campagne circostanti e conquistando i castelli che incontrano. Uno di questi castelli è il castello di Caprona, che praticamente viene assediato e a un certo punto gli assediati cercano un accordo con i guelfi assedianti e praticamente dichiarano che lasceranno il castello agli assedianti a patto che loro gli garantiscono la vita salva, insomma, la salvezza della vita. A questo punto qui i guelfi accettano e gli assediati di Caprona escono dalla porta principale, diciamo, del castello. E questa è una scena in cui loro avanzano, sono un po' spaventati, si guardano tremebondi perché non sanno se i guelfi mantengono la parola. Ecco, questa identica scena Dante ce la rifà sentire, ce la quando invece, circondato da diavoli che devono accompagnarli al cerchio successivo, la cui accompagnamento è praticamente obbligatorio, Dante è preoccupatissimo e si stringe tantissimo a Virgilio dicendo, sì, ci hanno promesso di accompagnarci, però non sono mica sicuro che poi non ci faranno del male, ci tratteranno bene. E Virgilio lo consola, lo incoraggia. E il duca mio a me. O tu che siedi tra gli scheggion del ponte quattro quattro, sicuramente ormai a me ti riedi. Perché io mi mossi, a lui venni ratto. E i diavoli si fecero tutti avanti. Sì, chi ho temetti che i tenesser patto. Così vi dio già temerli fanti che uscivano patteggiati di caprona, veggendo se tra nemici cotanti. Ecco la stessa cosa. Dante ha visto i diavoli attorno e lui si stringe al duca a Virgilio dicendo, oh mio Dio, speriamo che mantengono il loro patto esattamente come aveva visto i fanti che uscivano da caprona, spaventati, circondati da nemici. A questo punto abbiamo una serie di nomi, di diavoli che Dante ci fa, in cui parlano fra di loro. Il capo si chiama Barbariccia, poi c'è Scarmiglione, poi iniziano a parlare fra di loro. E tra ti avanti Alichino e Calcabrina, cominciò egli a dire. E tu Cagnazzo e Barbariccia, guidi la decina, Libiocco Vegnioltre, Draghignazzo, Ciriatto Sannuto e Graffiacamne, Farfarello e Lubicante Pazzo. Ecco, perché vi questi nomi? Perché non c'entra nulla con i wargame, però per chi è appassionato di giochi di ruolo giapponesi, ha appena scoperto, sicuramente lo sapeva già, che buona parte dei demoni, dei nemici, dei boss, diciamo così, di fine dungeon, dei vari Final Fantasy, hanno tutti quanti o quasi nomi dei diavoli, dei demoni danteschi. E questo già in originale, giusto per dire quanto la parola del sommo poeta è girato. A questo punto inizia il loro viaggio. Sta per iniziare, i diavoli sono fermi e aspettano un segnale. E questo segnale moltissimi di voi se lo ricorderanno, come viene dato, anche se sono solitamente quei canti che non si fanno a scuola. Per l'agine sinistro volta di Enno, ma prima avea ciascun la lingua stretta coi denti, verso l'orduca per Cenno, ed egli avea del culo fatto trombetta. E questo lo sappiamo tutti. Il diavolo emette un peto enorme e Dante ne approfitta all'inizio del canto ventiduesimo, con la trombetta si chiudeva il canto ventuno, a ricordare che lui è un esperto di materia militare, è qualcuno che ha visto, ha partecipato a campagne militari, perché infatti lui dice io ho visto eserciti partire con una marea di segnali diversi, visivi, sonori, ma io un esercito incamminarsi con un segnale del genere prima non l'avevo mai visto. Ed ecco quello che Dante ci dice. Io vedi già cavalier muover campo e cominciare a stormare, far loro mostra e talvolta partire per loro scampo. Corridor vidi per terra vostra o aretini e vidi gir guardane, fedire torneamenti e correre giostra. Quindi qua Dante ci ricorda che ad Arezzo è stato, è stato come militare nella terra di Arezzo. Ha visto una giostra, perché quando poi dopo i Guelfi arriveranno ad assediare Arezzo, la cosa sarà tranquilla, saremmo tornati ai vecchi livelli della guerra fredda, come era descritta in qualche puntata fa. Quindi noi che gonfiamo i muscoli, loro rimangono dentro, qualche insulto da una parte dall'altra, i Guelfi all'esterno sono talmente tranquilli che organizzano un palio in uno dei loro giorni di festa comunale. E quando con trombe, quando con campane, quindi sta continuando a descrivere come partono queste campagne, queste marce, questi atti militari, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane, né già con si diversa cennamella, cavaliere vidi muoverne pedoni, né nave a segno di terra o di stella. E Dante è un po' sconvolto da questo aspetto, perché appunto ha visto segnacoli, ha visto segnali, scusate, ha sentito campane, ha sentito tamburi, ha sentito tutti i modi per far partire una marcia, ma a un modo così strano, fino a quel momento, per iniziare una marcia, un percorso, non l'aveva mai sentito. I Guelfi non conquisteranno adesso, ma non ce n'è bisogno. Torneranno in città, la vittoria di Campaldino segnerà praticamente la prevalenza e di Firenze, e del perito Guelfo, per sempre sulla Toscana, oserei anche dire sul nord Italia, e sul sud, che Sicilia parte e resterà in mano a Caro D'Angio, però con l'abilità tipica di dividersi, una volta che si è vinto, tipica probabilmente dell'Italia, in un certo senso, i Guelfi troveranno niente di meglio da fare che spaccarsi in due. Guelfi bianchi, di cui fa parte Dante Lighieri, che cercheranno comunque un'indipendenza assoluta, cercheranno di mantenere il controllo senza appoggiarsi a nessuno, e Guelfi neri, che cercheranno invece l'appoggio di Bonifacio VIII. Come è finita già lo sapete. Nel 1300 Dante sarà a priori per due mesi, quando i Guelfi bianchi avranno il potere, ma per un certo punto, controvesciamento delle sorti, Dante, come appartenente a un governo precedente nemico, verrà esiliato e non potrà mai più ritornare nella sua amata Firenze, fino a che viaggerà per un buona parte del nord Italia, fino a che non si fermerà alla fine a Ravenna, dove ancora oggi, ricordiamo, è presente la sua tomba. Con questo io chiudo il nostro percorso, con tra Guelfi e Ghibellini nell'Italia del XIII e dell'inizio del XIV secolo. Spero che vi stai divertiti, come mi sono divertito io, vi ricordo di andare a ripescare anche la conferenza, per quelle parti che qui non abbiamo approfondito completamente. Rinnovo i miei auguri per l'anno nuovo, se riesco ci sentiremo ancora una volta o due, ma vista l'ultima volta come è andata non prometto più niente, non voglio fare più tutte figure. Quindi tantissimi auguri, grazie a Diego, grazie a Paolo, che a questo punto mi deve scrivere chi è il comune amico che gli ho fatto venire in mente con questa chiosa. Il Giannizio Nero tornerà sicuramente o quasi il 13 gennaio, noi che lo aspettiamo probabilmente prima. Continuate a seguire il gruppo Casus Belli per le prossime puntate. Paolone non mi ha più risposto, però confido, visto che era un po' in ritardo il suo streaming, confido che ci dirà qualcosa su chi sia questo comune amico. Aspettiamo tutti insieme fiduciosi. Grazie ancora a tutti e per salutarci meglio, oggi crepi la valizia, sigla. Grazie a tutti.